Musica Amoiele Sereni, esordio con questa Sanzo Vino dalle tribune abbiamo visto una partita tattica e una partita didattica perché ho impegnato tutto te stesso non è anche consigliato dare le posizioni, chiamare la linea però ho visto molto iperattivo anche nel seguire e nell'aiutare la difesa per avere una linea continua Sicuramente posso mettere a disposizione l'esperienza in questo gruppo di ragazzi, già un gruppo molto valido se fosse loro il consiglio, un consiglio positivo sempre di crescita, di aiuto, lo do quindi mi metto a disposizione di tutti, di tutto l'ambiente per essere i ragazzi cercando di fare qualcosa di importante Nel secondo tempo abbiamo iniziato a vedere Sereni e Stingi Ma ti dico, venivo dai suoi 5 giorni di allenamento ancora fisicamente sento che sono neanche al 50% perché comunque è così, il campo è una cosa a parte quindi piano piano con l'allenamento mi metterò a posto e poi magari avrò modo anche di esprimere in caso offenziale Grazie per questo invitato